Infissi in pvc con cessione del credito. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. La cessione del credito è una possibilità che è stata introdotta nel 2020 con l'introduzione degli incentivi 110% e 50% con il prolungamento del 50% e una possibilità che consente a chi come te di acquistare nuovi infissi di cedere il credito maturato. Che cosa succede? Facciamo finta che stai acquistando infissi per 20.000 euro con 50% di detrazione. Questi 20.000 euro ti daranno diritto ad un credito di 10.000 euro quindi la metà del 50% che tu potrai scontare nella tua IRPEF la tassa sulle persone fisiche se nel caso acquisti come persona privata o nell'IRES sta acquistando con società e praticamente detrartela in 10 quote annuali di pari importo. Ad esempio, ho fatto l'esempio appunto di 20.000 perché diventano 10.000 euro all'anno che vengono scontate nelle tasse a patto che tu hai 1.000 euro di tasse da pagare perché se hai 500 euro di tasse da pagare pagherai 0 ma perderai gli altri 500 euro. Se ne hai 2.000 ne pagherai solamente 1.000 invece di 2.000 e con questa cessione del credito è la possibilità una volta che hai maturato questo credito quindi diciamo che una persona ha un cassettino fiscale dove dentro hai i suoi crediti tu dentro questo saldavanario tra virgolette ai 10.000 euro puoi decidere di cederlo a un'altra società a chi ti sta vendendo le finestre o una banca ad esempio o un'assicurazione qualunque società che abbia la possibilità di ricevere il tuo credito ad esempio oggi ci sono diverse banche che immediatamente accettano il tuo credito a un tasso di circa l'80% che cosa vuole dire questo? rimanendo quei famosi 10.000 euro di prima vuol dire che tu darai questo credito alla banca che lei se lo detrerà in 10 anni e lei ti darà indietro subito nell'arco di 1-2 settimane il tempo di svolgere le pratiche 8.000 euro può essere molto conveniente e qualcosa che consiglio assolutamente che è più conveniente dello sconto in fattura. Se vuoi saperne di più come se avviene infissi su quale strada è migliore a livello di incentivi di sconto in fattura e di cessione del credito puoi approfittare della consulenza con sistema Visacchi su saperne di più o vai su www.blogvisacchi.it che ho creato per aiutare tutti quei clienti dove non posso vendere direttamente le finestre perché altrimenti lì ci sarebbe un conflitto di interessi sulla scelta dell'infisso mentre facendo così ti do dei consigli assolutamente sopra le parti ciao e al prossimo video ciao